Mistero? Cecilia e Ignazio sono ancora fidanzati? Non si sa ancora, non si sono esposti, però vanno a cena assieme. Un bagai però più buono del tuo? Adesso ti dico, me ne lo assaggero comunque, è buono il tuo cuore tenero, si scioglie dentro e il tuo rimane un po' asciutto. Cecilia non porta ancora l'anello, ma vanno a cena assieme, chissà come andrà a finire. Sono ancora fidanzati? Voi che ne pensate? Grazie a tutti.